Sembra in crescita il tenista argentino Vale il discorso per Raonic, per Del Potro l'altro anno è stato l'anno del comeback e però non aveva la continuità dei match, magari arrivava in semifinale che era cotto adesso invece è pronto 3-2 Federer 3 titoli vinti in carriera La Raonic 2 nel suo torneo preferito, quello di San José, 40-0 intanto Costretto ad allungarsi anche qua, Federer non è mai tranquillo nonostante un'ottima prima voler È facile per uno come Federer chiudere al volo 40-0 Comunque, un Federer molto molto presente in questo primo set, anche dal punto di vista tattico direi Beh, è consapevole del fatto di non dover dare una chance al ragazzino L'anno scorso si è bloccato subito dopo la serie di grandi vittorie indoor per tornare nella parte finale Questo è un piccolo problemino al ginocchio Comunque sotto controllo Può passare e passa Federer 3 punti consecutivi Palla break Genji apertura dopo il tiebreak Subito la reazione dello svizzero 30-40 Qui ha attaccato un po' corto Raonic Una palla forse non colpita benissimo è comunque molto carica E comincia a trovare un po' il tempo sulla risposta Federer Gran passante poi 0-15 Risposta insidiosa, bassa per un giocatore così alto Non è che faccia tanti break nelle sue partite Ancora una palla per Federer Parte Mostruoso dritto dello svizzero 3-1 Stira fuori Molto bene Da una situazione che poteva diventare complicata Questo è il punto dove deve migliorare Ovviamente quello degli spostamenti Soprattutto in avanti È chiaro poi che quando la partita si sposta sul piano dello scambio Salgono sicuramente le percentuali di Roger Che adesso sta giocando in maniera impeccabile È sempre lui che domina la situazione Fantastico rovescio di Federer Che palla Questa facilità di trovare un colpo di stabilità Con rovescio di una mano Sempre davanti al corpo Una meraviglia questa Altra palla break Faglia Raonic E alla fine Lo passa Federer Passante centrale Guarda come sono di parte Il direttore del torneo e il proprietario del torneo Anche perché qui va a finire che se Raonic Poi va a servire per il match Lui spegne le luci e dice andiamo tutti via Una palla da gioco Non è come nel baseball Grande giocata di Roger Federer Non sembra tutto così facile per Federer Rimettere le cose a posto E ci arriva una seconda Che non arriva E ci arriva Al-Andes cambia appena riesce ad andare nell'angolo aperto Roger e fa fare tre passi a Raonic si mette la strada in discesa prima col contropiede poi col rovescio fantastico rovescio aprirsi il campo palla break passa la risposta di Federer e passa anche il suo rovescio il break arriva 4-3 per lo Svizzero tutti in piedi o quasi all'Indian Wells insomma era un po' nell'aria perché appena cala la prima di Raonic il ragazzo canadese non riesce più a tenere il ritmo del primo set simpatico ma insomma affossa il dritto in rete Minos Raonic vince Roger Federer 6-7 6-2 6-4 però Raonic comunque ha fatto una buonissima impressione beh alla fine escono tutti contenti gli organizzatori come abbiamo visto perché ti famano Roger Federer Federer perché ha vinto è tutto sommato non interessato al futuro di Raonic ma al suo presente e Raonic perché alla fine ha giocato contro Federer la leggenda del tennis ha fatto match pari forse un po' troppo rispetto anche dell'avversario che è in campo dal punto di vista emotivo cioè ha tenuto bene il primo set gli è mancata però l'aggressività per crederci e forse anche la cattiveria nel terzo set però Raonic sicuramente c'è sicuramente è già di livello l'abbiamo visto stasera perché pur calando è finita 6-4 al terzo la partita quindi ormai Raonic non è neanche più un predestinato è una realtà è una realtà che si sta avvicinando piano piano ai primi 10 ci arriverà presto secondo me